non mi sarei mai aspettato di fare questo video in una situazione del genere cioè mai, 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 mai nella mia vita, mai, mai eppure io non sono colpito da questa cosa tanti ragazzi anche su Instagram mi hanno chiesto perché su Instagram appunto ho condiviso delle immagini della protezione civile dei servizi, insomma, dei vari telegiornali che pensavano che anch'io fossi uno delle persone diciamo colpite fortunatamente, per mia fortuna, no, no perché io, insomma, sto in una zona limitrofa di Firenze ma in alto, quindi prima che venga l'acqua a casa mia praticamente affoga mezza Toscana quindi proprio per rimanere leggeri nel parlare in una situazione del genere ed è incredibile ragazzi che sia successo tutto ciò tutto ciò nel giro di pochissime ore io mi, cioè, voglio proprio mi metto qui proprio come sempre davanti a un telefono un video, insomma in questo caso voglio salutare, abbracciare i familiari delle vittime e anche tutti coloro che non hanno più niente perché comunque è una situazione grave e bisogna riconoscerla questa cosa e anche do un saluto e un abbraccio a tutti i volontari della protezione civile volontari in generale, vigili del fuoco che si stanno adoperando in queste ore e anche nelle prossime ore per cercare di risolvere prima possibile tutto questo casino e tutta questa situazione che si è venuta a creare per chi non lo sapesse ovviamente il video è incentrato su questo quindi, insomma, se l'avete aperto è ovvio che lo sapete la partita di domani di Fiorentina-Juventus ovviamente si giocherà si giocherà perché ragazzi, la Toscana e Firenze si sono mobilitati per questa emergenza però però la Lega Serie A nonostante, diciamo, una richiesta spassionata da parte della Curva Fiesole da parte dei tifosi in generale di poter rinviare questa competizione sportiva perché di questo si parla per noi è quasi una religione però bisogna sempre ricordarsi che è una competizione di svago una competizione sportiva di poterla appunto rinviare a data da destinarsi per risolvere ovviamente tutto questo casino che si è venuta a creare tutta questa situazione tremenda che si è venuta a creare ovviamente come in realtà me lo sarei aspettato cioè era una roba impossibile la Lega Serie A non è che ha risposto picche però nel senso tutti hanno detto no ragazzi cioè nel senso è ovvio se il campo è agibile se non c'è una situazione grave intorno allo stadio o intorno alla città di Firenze dove si gioca la partita la partita si gioca cioè sarebbe stato bello diciamo eticamente e moralmente corretto ma più per noi più per noi persone o più per noi tifosi che viviamo e che sappiamo adesso in che condizioni si ritrova la zona metropolitana non la zona metropolitana scusate la zona limitrofa a Firenze quindi insomma zona di Campi zona di Prato zona di Figline Figline di Prato in che condizioni sono ridotte sarebbe stata la cosa più giusta però ovviamente ragazzi è brutto da dire ma il mondo gira sempre intorno a questi non c'è niente da fare perché è proprio quello il discorso il fatto che lo stadio sarà pieno quindi più di 35.000 persone comunque andranno a vedere la partita che non è sbagliato anzi cioè nel senso è anche un modo per staccare la testa forse da tutto questo casino e sotto questo punto di vista forse è l'unica spiegazione che mi posso dare positiva per il fatto che verrà giocata la partita comunque a me non me ne frega niente se viene giocata oggi o se viene giocata tra un mese sappiatelo ovviamente io sono sempre a vedere la Fiorentina vedrò anche questa partita la vedrò non sarò allo stadio però comunque la vedrò la commenterò farò il video del live reaction come sempre come sempre perché comunque voglio che questa situazione rimanga non troppo pesante perché io spero che voi veniate a vedere i miei video anche per staccare la testa cioè a me mi fa molto piacere sapere se questo è un motivo per il quale voi venite a seguire i miei video e io quindi voglio rimanere il più leggero possibile anche per farvi staccare in generale a chiunque io spero di poter fare questa cosa per quanto mi è possibile la testa da tutto questo casino il mondo della serie A appunto non si ferma come già detto e la partita si giocherà quindi in generale è una cosa che io voglio portare avanti quindi insomma il video comunque lo faccio vi parlerò lo stesso della partita cercando di rimanere il più distaccato possibile adesso da tutto il discorso che ho fatto come se fosse una cosa che succede tutti i giorni o comunque nel senso come tutti i video che ho fatto insomma tutti i prepartiti che ho fatto la partita ragazzi appunto si giocherà e si affronteranno due squadre che giocano in una maniera molto diversa tra di loro come gli ultimi anni in realtà la Fiorentina gioca molto il calcio comunque cerca di palleggiare cerca di creare gioco mentre la Juventus sappiamo è una realtà molto più cinica e molto più difensivista sotto questo punto di vista è la seconda miglior difesa della Serie A e noi sotto questo punto di vista incredibilmente rispetto all'anno scorso siamo il quarto se non sbaglio migliore attacco della Serie A quindi sarà un bello un bel incontro un bello scontro se proprio dovete chiedermi o volete sapere il mio pensiero su quello che potrebbe essere un risultato finale di questa partita risultato finale proprio risultato non ve lo saprei dire però secondo me questa partita può finire in due modi il pareggio non esiste proprio non esiste il pareggio o si perde male versione Lazio quindi magari si attacca si prova e loro con un gol sporco riescano a portarsi a casa il risultato oppure sarà una debacle incredibile quindi vittoria per 2-3-0 io non vedo altri risultati da questa partita può andare in un modo o nell'altro dipende tutto dalla squadra che entra in campo e dalla squadra avversaria come si presenta per quanto riguarda la formazione io penso che in generale sarà sempre la solita con Parisi che forse 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 potrebbe riuscire a entrare in campo se no comunque Biraghi e forse Pierozzi perché questi sono gli ultimi terzini che sono rimasti per quanto riguarda i centrali penso che comunque nonostante le prestazioni negative giocherà Milenkovic c'è Martinez IV nella mediana sempre Arthur e Duncan perché ormai è giusto che giochino loro visto che le prestazioni comunque positive si stanno portando avanti da tante partite a questa parte per quanto riguarda la tre quarti Nico Gonzalez io spero che verrà riproposto a destra e non adattato a sinistra per fare giocare Icone e anzi io spero che Icone giochi a sinistra cioè io spero di rivedere gli stessi interpreti della partita con la Lazio quindi anche con Buonaventura tre quartiste Beltrano punta perché quella partita comunque nonostante si sia persa si è giocata molto bene e c'è stato solo quelle due o tre cose che non sono andate bene che bastava un attimo aggiustare il tiro e il tiro che quella partita te la saresti portata a casa anche un po' di sfiga perché ovviamente basta che il palo di Beltrano magari entri e quindi forse la partita va a finire in un modo diverso oppure che Milenkovic non decida di giocare a pallavolo però vabbè quelli sono discorsi ormai passati la Juventus dal canto suo appunto ritorna a Firenze facendo giocare i soliti X tanto ormai li conosciamo tutti il gioco della Juventus in generale lo conosciamo è più avanti di noi in classifica è incredibile che nonostante una squadra che gioca un calcio del genere riesca a essere così avanti a noi ed è colpa nostra cioè non è colpa loro perché gliel'hanno regalata e no loro si sono portati a casa i risultati giustamente in maniera ovviamente magari anche un po' fortuita in qualche partita come sempre il gioco di Allegri li impone sotto questo punto di vista o in maniera anche a parbia perché molte volte magari la Juventus si è portata a casa il risultato al 95esimo vedi appunto la partita per esempio col Verona quindi a differenza nostra che invece noi negli ultimi minuti la prendiamo sempre lì per quello che io vi ho detto che forse potrebbero esserci in campo due risultati diversi il pareggio non lo riesco a vedere quindi è una squadra che bisognerà stare molto attenti alle ripartenze sarà chiusissima ragazzi sarà chiusissima la Juventus se io non non riesco a vedere una Juventus che viene a Firenze a palleggiare è impossibile perché fino ad ora non lo ha mai fatto anzi ci lascerà a noi il pallino del gioco e sfrutterà le ripartenze come sempre ragazzi come tutti gli anni come sempre bisognerà essere molto attenti in difesa perché lì lì rimane sempre comunque anche se rispetto all'anno scorso qualcosa si è migliorato ma rimane sempre un nostro pallino in negativo perché comunque anche per il gioco d'italiano che impone che mette in campo la difesa rimane sempre una di quelle zone molto scoperte e che possono essere sfruttate in maniera positiva dall'altra squadra non da squadra non da noi scusate quindi bisognerà stare appunto molto attenti alle ripartenze come ho già detto e evitare le solite cazzate in difesa per favore evitiamo le solite cazzate proprio perché quelle sono cazzate più attenzione più attenzione più attenzione perché basta poco non serve fare salti mortali basta poco basta poco basta il portiere pari basta che i difensori non allarghino le braccia durante i tiri entrate in area di giocatori così niente irruenza troppa irruenza vicino all'area di rigore quando magari c'è da spazzare una palla spazziamola non evitiamo non giochiamo sempre se magari la pressione addosso è troppo ci sono troppi uomini intorno a noi spazziamola una volta si può spazzare da starebbe appunto mettere a punto queste due o tre cose che sono anche molto basilari però che comunque a noi ogni tanto ci mancano e magari potrebbe essere una partita positiva come ho già detto all'inizio la partita appunto verrà giocata domani sera a un quarto alle nove speriamo di vedere una bella Fiorentina e di portarsi nel caso a casa un risultato positivo perché nelle ultime due partite appunto è mancato mi fa anche calda la testa niente ragazzi fatemi sapere ovviamente la vostra sottolinea e fatemi sapere anche come state in generale come state se nel caso siete qualcuno dei ragazzi magari ragazzi ragazzi insomma colpiti dall'alluvione di questi giorni oppure magari anche semplicemente se siete lì a dare una mano perché vorrei sapere anche in generale visto che la Toscana e Firenze si sono mobilitati in una maniera incredibile noi a criticare siamo bravi tutti cioè a mandare merda addosso alla gente però quando succedono queste situazioni nessuno le come noi ad aiutarsi in generale l'Italia dico cioè l'Italia si mobilita in una maniera incredibile quando succedono ste cose però a buttarsi merda e fanga addosso per qualunque cazzata siamo bravissimi anche in quello bravissimi bravissimi sempre forza bella ragazzi ci vediamo domani nel post partita ciao ragazzi ciao